E allora c'è Mario Serenellini che cerca disperatamente di fare bene qualcosa di alcociuto Lui è? Ma non ci arriva perché lei beve soltanto acqua o coca cola e lo so Verrà il mio amore, verrà il mio cuore, verrà il mio sangue, tutto verrà di me All'Istituto Italiano di Cultura si fa anche questo Allora, guardate come sono carini, mi hanno portato una fetta di canzone Ma lui è solo un evento speciale, non ci sarà mai più Aspetta, facciamo una cosa Come cosa facciamo? Lei parte domani Io? No, lei Lei parte domani E allora che cosa facciamo? Allora un amore che sta finendo No, no, già cominciando Non abbiamo neanche cominciato, già finito Prima di cominciare Hai capito, le donne sono pratiche, pratiche, pratiche Senti ma tu a Parigi non puoi farle fare niente perché lei sta girando il mondo Io posso fare la tour Eiffel Con vent'anni, non abbiamo fatto niente Bla bla, abbiamo fatto bla 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 Ciao Ragazzi siete scopendo insieme Vi faccio un sacco di auguri soprattutto a Lucchi C'è tanti piatti Certo, certo Adesso vive in Cina e domani parte tra l'altro Allora all the best No, no, lei Si, ti faccio tantissimo No, non me l'hai detto Eh beh Ma Sherine, non me vanno all the party Devi fare come 008, non 007 Non hai fatto piazzare una parola, Mario No Ok, allora all the best a tutti Ciao Ciao